Dopo l'uscita da Amici 20 i concorrenti sono stati sommersi dalla notorietà e ultimamente si parla solo di loro. Daddy ieri notte decide di fare un annuncio. Un'altra edizione ricca di successi quella di Amici che si è da poco conclusa. Infatti il talent di Maria De Filippi è riuscito a collezionare ascolti da record, oltre a rivelare al popolo italiano grandi talenti per quanto riguarda cantanti e ballerini. A trionfare in questa edizione è stata Giulia, ma tutti i finalisti hanno riscosso un successo enorme. Come Daddy, ragazzo che lavorava come barbiere e che ora sta coronando il suo sogno. All'interno della casetta, il cantante ha trovato l'amore, ma soprattutto ha stretto amicizie molto importanti, come quella con H7 Even, arrivato terzo a pari merito con lui. Questa notte però Daddy ha voluto fare un annuncio speciale ai suoi fan, rivelando che andranno a vivere insieme. Il futuro dei cantanti di Amici 20 parte adesso, dopo la fine del programma e i grandi successi pubblicati sulle varie piattaforme. A spiazzare tutti però sono ancora una volta Daddy e H7 Even, che hanno stretto un'amicizia molto bella e sincera. Infatti ieri sera, durante una diretta Instagram, i due hanno annunciato che andranno a vivere insieme. Un passo molto importante per la loro amicizia, che fa capire quanto i due abbiano stretto un legame forte. Dove e quando inizieranno questa convivenza ancora non si sa, ma si spera che la loro amicizia possa mantenersi così forte. Nel frattempo, nonostante sembra ormai chiaro l'epilogo della storia, in molti continuano a chiedersi dov'è finita la storia con Rosa. Grazie a tutti.